E' l'ultimo episodio di Dragon Ball Z! Goku viene sopraffatto dalla malvagia squadra G.U. Lasciando soli Gon, Krill, Junior e Vegeta contro lo spietato Freezer! Riuscirà Goku a salvare i suoi amici in tempo o sarà questa l'ultima battaglia per i nostri eroi? Scoprilo adesso su Dragon Ball Z! Mi lavorerò i vostri culi! Dove sei Goku? I miei amici sono nei guai Sento che hanno bisogno di me Devo muovermi! Ma prima devo fare un deposito! Mamma mia! Papà! Urca, ma era tutto qui? Oh cacchio, spero stiano bene Dove sei? Goku Finalmente è ora di finirla La tua sicurezza è stupida La mia intelligenza è impareggiabile Sì, ma sai contare? Cosa? Ho detto stronzo, ma sai contare? Ma certo che so contare, idiota! Diavolo, come fa a sapere che non so contare? Guarda, tra che che sono già morte, cosa ti fa credere di avere una possibilità? Perché io sono Vegeta, principe dei Saiyan Troia, per favore, ho distrutto il vostro pianeta di scimmioni Tu sei l'ultimo Vero? Sei l'ultimo rimasto Eh, beh, tecnicamente... Ah bene bene, senti un po' La farò facile per il tuo culo Niente mani Fai pure, se vuoi morire Questo è il vero potere di un sumo Come hai osato colpirmi con la tua coda? Non è la coda Non è la coda Cosa? Ma che? Questo è disgustoso, come puoi colpirmi con il cuore? Le mie sfere del drago Quale uomo afferra i genitali di un altro? Me? Fa un culo La mia voce Che cosa è successo? Ho solo fatto di te un uomo Ed ora farò di te la mia puttana Oddio, no! Oddio, no! Che cosa sta succedendo laggiù? Kakarot! Non temere, Vegeta Ti salverò Ma prima devo fare un altro deposito Aspettate, non è ancora finita Continuate a guardare Nel frattempo mettete mi piace, favorite e iscrivetevi Date un'occhiata anche ai canali originali Di Gonzozms Rice Pirate Rice Pirate Quella roba là Delle altre cavolate Su Dragon Ball Z Sai perché mi chiamano Fraser? Troia No, non lo voglio saper Perché ti freddo appisellato in bocca No, 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 no No, 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 no